ciao cari amici di tutorial illuminazione oggi terzo appuntamento come si pulisce una plafoniera della svento questa grandissima collezione è che è l'estrema semplicità nello smontare la plafoniera adesso la vediamo attaccata a parete ma voi ce l'avrete sicuramente a soffitto questo anello metallico va a prendere su queste tre calamite queste tre calamite tengono fissato il lampadario a soffitto quindi semplicissimo si sgancia si prende e come vedete nelle immagini poi si si mette dentro una vasca da bagno e si lava tranquillamente sotto l'acqua questa che si chiama veli prima ho preso l'atlizia ora ci sono delle nuove collezioni che abbiamo messo qua eccola qui guardate che splendore questa si chiama non mi viene in mente veli foliage veli foliage bellissima anzi prima vediamo questa che è la veli couture vedete due dita esiste di tre dimensioni quella inquadrata in questo momento è la plafoniera media oltre alla plafoniera che abbiamo visto prima ci sono anche le sospensioni il lampadario sospese con dei cavi d'acciaio hanno sempre lo stesso meccanismo con un con dei magneti però a differenza delle plafoniere hanno una sicura eccole qua questa è la sicura che basta allontanarla una e l'altra grazie a tutti grazie a tutti